ciao cosa ridi? torna qui ciao diciamo ciao siamo su roblox non sono in chiesa aspettami dove sei? comunque prima di dire qualsiasi cosa lei non ha i capelli neri erano gli unici che gli piacevano non fate caso alle sue risa vuoi vedere di non urlarci nell'ora? partiamo subito aspettami sono sicura che tu ti può cadere tantissime volte ah si a te finco io basta urlare di sottofondo no sei caduta davvero a questo aspettatemi ah mi sembra di quello io sono maschio non capito no è andato piccino e morto il mio cognomico vabbè dai eh sto registrando no vabbè non l'ho capito sei morto no no tutto di fila tutto di fila no sono caduta all'ultimo ok dobbiamo fare tipo più parkour che possiamo non è valido non è valido ma lei hai preso il checkpoint sei una cretina ah una è moruta ok adesso dopo due ore è arrivata non è vero sei morta almeno due volte due ore e mezzo ce la fai almeno oh leviti leviti su una pizza che cosa sono mi sono salvata tantissimo vieni dai che c'è piccino è morto vogliamo farlo aspettare poi ci sarà una vita ma io l'ho facciuto di fila ma che quale vita che è? sei morta? aspetta questo è il nostro primo video di roblox oddio è morto piccino è morto appunto questo è il tuo primo video di roblox oddio questa è tipo la sua seconda sei morta all'ultimo vaffan bagnos ah ha iniziato vai ma i romari che è morto sembrano molto molto vulgari che schifo tu sei volgare o lo prendi adesso il checkpoint o ti tiro questa montagna che non è neanche una mont... non è neanche una montagna ma è una torre fucsia e tutti sanno che il mio colore preferito è il fucs non è bello rosa vabbè il fucsia è rossa no che c'entra? il fucsia è più fucsia il rosa è più rosa se mi dici così non ci capisco una mazza levati un piccione è morto poi tanto lo vedo il suo video non mi interessa qui no vuole dire qualcosa ai suoi fan? ho iniziato? si è durato troppo poco vabbè ma giuro che... si è morto chi? è joel no come si chiama? si è morto mi dovrei chiamare non xx gaccia giuli ma mi dovrei chiamare xx gaccia morta vabbè vabbè dai il piccino è morto che è già morto giugliana che fa il parkour sei morto malissimo che passiva il parkour e appunto ora non più mi fa male il dito perchè sono in primo piano e che ne so io guarda guarda sto aspettando la mia compagna che c'è tutto ma muoro sempre muoro possiamo dargli un piccolo spoiler del prossimo GLMM a chi? hai scritto grazie allora parlerà del covid 19 eh lo so abbiamo deciso questo come hai fatto a cadere là? ma ora vi rifaccio la scena adesso non muoio questo hai fatto sei andata la connessione tipo ora me lo devo rifare da capo brutta tu sei la io sono più antico direi che sono più brava prima mentre non registriamo tipo sei morta 40 volte non è vero abbiamo fatto scambio di cellulare non è vero no mi hai fottuto il cellulare poco fa ma non ho oh sono arrivata ciao 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 ah ciao vai è quello verde si esatto Noi facciamo un po' di parkour, ma sei morto, non è possibile, ok, beh, è risata terribile, oh, questa per la mia Questa dove stiamo parlando, ma sei ancora lì? Mi sta la gamba, dai che ce la fai, dai che ce la fai, c'è bisogno è morto tipo che, fa la confine, aspetta facciamo la confine, forse, ma fa, no, 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 no. Mi muori nelle scale, mi muori nelle scale, ok, io sto laggiano tantissimo, non è un bene questa cosa, oh, sposta! Mi è lanciata il filone! Eh, sì! Non lo faccia! Intanto vado avanti! No, 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 no! Però nel checkpoint, immagini se muoio! Se muoio! Ti voglio, al mio funerale, viè! Caprio! Non ti bisi il pietro, in po'! Ma ti posso scoprire da sola! Io vedo tipo che stai camminando! Scuso! Cosa dice un lupo a Natale? Che siamo tutti più buoni! Hai capito? Ah, era bella! Hai registrato? Sì! No, l'hai spinto! Che preo! Che cosa fa un lombrico? Che cosa fa un lombrico sull'isola deserta? L'ombriccheggio? No, il verme solitario. Sì, mi fanno ridere le battute veramente... Pessime! È bellissima! Sì! Come te! Non scatto! Grazie! Appunto per questo ho detto bella come te! Ah, comunque è per avvisare che Giuliana non si potrà mai far vedere in faccia! Ma non vale! Oh, ma sei creduto anche tu! Ma è un complotto? Mi stavi insederando? Che schifo fai? Ciao, me ne vado! Un complotto senti io offrendo le quesette! No! Che devo fare? Accept tu se vuoi! Accept tu! Mi raccomando, accept! Accettiamoli! E chi va per primo? Io, io! Vai! Non piove la mia morte! Vado, vediamo, vediamo! Sto registrando... Sto riprendendo tutto! Vado io? No! Riusci a piederni, cavolo! Vai! Oh, ma se stai salendo! Ma c'è anche il piccino morto! Vai che ce la fai! Vai che ce la fai! Attenzione, questo momento è un sacco! E' un piccino morto! E' un piccino morto che ce la fa! Vado io, aspetta, tre, due... E lo fermo, fermo, fermo! Oh, ma c'è anche il piccino morto! Oh, ma c'è anche il piccino morto! E' caduta! Ce la fa pure un gatto morto! No, non facciamo! Ok! Ah! No, no! Luli! 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 Dove sei? Non ti vediamo! Giù! Non ti vedo! Sei piccolissima! Ti sei ammazzata? Sto robo è un pazzo! Luli, fermati! Siete o c'è, dove sei? Luli! Luli! Luli, luli! Lui! Ce l'ho fatta! Certamente ce l'hai fatta! C'è mezz'ora che ce l'hai messo! Oh, mezz'ora ce l'hai messo! Che bello! Che bello, ho scritto un piccino morto! Ora ci dobbiamo buttare! Buttiamoci! Se morivo! Giuravo! Luli, sappi che nel senso che tu stai? No! A casa mia o... Nel tuo gioco? Ah, vabbè, dai! Sto registrando, scema! Da quando? Ba' ora! Aspetta! No, sono caduta! Scusate per questa piccola inconvenienza, ma ci sono stati tipo dei confrotti! Sì! Oh, ma tu sei già là! Sì, eh... Che devo fare? No, aspetta, aspetta! No, aspetta, aspetta! Non ho capito niente, però va bene! O... Ok... E ora qui... Ci dobbiamo buttare di un'altra! Ahahah! Piccione morta è caduto... Non pensavo potesse volare! No! No! Piccione morta, stai guardando questo video? Se lo guarderei mai... Ti vogliamo bene, tranquillo! Oh! Dai, ti vogliamo bene! Scherziamo! E solo ci fa ridere il tuo nome... Non lo stiamo prendendo in giro, però... Guarda... Che è? Si sta girando... Dai, che ce la fai, dai! Ah, io vado avanti... Vabbè! Ah, questi devono fare salti lunghi! C'erano alti, devi levare! Sai che questo video durai tipo una mezz'oretta? No! Come una mezz'oretta? Vabbè, una zona di video, perché... Dobbiamo arrivare a quel tizio... Oh no, dobbiamo salire molto più alto, vabbè! Devo fare... Ehm... Salta... Ora questo è quello di te... Eh, no... Qua... Qua, ok... Ah, ci sta facendo un stadio a lui, vieni... No, aspettami... No, vieni, 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 aspettami, dove devo andare? Sì... Ehm, vieni qua! Qua... 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 E qua... Sì? Si sta facendo un stadio a lui, qua... E qua... Ok... Piccione morto ti ringraziamo Piccione morto nei commenti scrivici tu no Ok Aspetta Scriveteci Hashtag piccione morto Esatto Piccione morto ti stiamo sponsorizzando Non possiamo più sponsorizzare Sono salita su un piccione Dai Dai che ce l'ho Non mi dare calci No Si è spento il telefono Vabbè abbiamo capito Da Giuliana si è spento il cellulare Quindi adesso continuo io Ma in realtà sei ancora tipo fermo e immobile Giuliana è morta vabbè Continuo io è stato bene Fanno un coluno così vediamo chi muore Ok Così vedete chi Vedete In questa Allora finché non muoio In questa parte del video Finché non muoio non vai tu Forse il video lo facevo dare tipo una ventina di minuti Perché è morto il piccione Non è morto il piccione Ma basta morire Piccione morto il piccione morto Siii Per quanto ti sfiga Quando morire Io io Si Da di te Probabilmente Maria è bollente Sto the Abbiamo capito Che morirò tantissimo Stavo dicendo È morto il piccione morto Ma perché ti cosa E' morto il piccione morto Comunque questo nome è bellissimo, ti giuro Toh Dammi, tocca a me Dai, io sono con un piccino morto che è molto più bravo di te No Voglio vedere le tue reazioni Ne avrò una Le avrai, le avrai Ora non leggo più la chat Basta Marilu Ancora mi sa che dobbiamo andare sul tento del fucs Siamo Non voglio vedere Non ho messo a fare, in realtà dicevo una, vabbè Stai guardando malissimo Non so neanche io cos'era Non chiedetelo Se è piccino morto è arrivato a questa fine parte del video e voglio dire che sei molto più bravo di Giuliana Grazie Ma tanto ti cominceresti dall'inizio Ma tua sorella È bella ma tu no Cuccia Basta prendere a fuori il mio muro Facciamo un patto Che parla Che parla Io ancora non sono morto Oh cavolo qua io muoio Prego Ok Ok No Cosa dice Sono un genio No Mmm Commenti se faccio bene o male Male? Molto male Non è vero Scrivete Hashtag Ricciare Oh ma tu parli No finalmente Aspetta che devo Dove devo andare Nei cosi blu Nei cosi blu Azzurri o blu? Azzurri o blu? Blu! Non dai! Luli! Luli! Hai spento il telefono, cretina! Sei la mia caccia tu per prima Ma perché hai parlato solo di lei e di me non mi calcolate? Questa cacina Chi è questa cretina? Parlo di te Grazie! Ha spento la registrazione Che prio Cosa? Niente Giusto un po' Tocca a me I'm gonna take my heart to the whole town I'm gonna I'm gonna I'm gonna Non vai! No, Luli, Luli Dammi una seconda possibilità, ti prego Ok, tanto prima se non fate non ce l'ho Tanto lo sai benissimo che sono un'aneglia, quindi Sì Dammi Tieni, vedi, vedi che è meia C'è Ok È scritto su, non ce l'ho capito No, neanche non si legge Allora facciamo così Arriviamo a quel tizio la e ci fermiamo Dove? No, io pure voglio partecipare però Ok A cosa? Ha scenduto il telefono No, il telefono Volevo fare il mio Che scherzo Oh, dai, una volta che non ho pensato male Eh, è troppo da Ah Pensavo si poteva fare Ah 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 Sei una media Non so, la teia Ah 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 Tah Ah 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 Ci mama Ragazzi Ok tieni. Io voglio arrivare fino a quel tizio, però devi salire sugli alberi qua, te lo dico. Ma che bello, di minecraft. Non è valido. Lo prenderò come sentimento. E non lo prendo. Ma la tua testa si traccia. Non si sentiva. No! Non lo sai fare un salto? No! Si deve stare zitto. Parlami, scemo. Vabbè ragazzi, il video finisce qui perché dura tro... Troppo! Troppo! E quindi se ci sarà un altro video di Roblox... Se ci sarà un altro video di Roblox e questa volta cercare di avere il cellulare carico. E quindi se ci sarà un altro video. E visto che non lo so pronunciare nella vita reale, aspetta che lo scrivo. Come cosa? Ciao! Ciao! E' W! Grettina! Ciao! Ciao!